E' stato in un brilante Distant Horizon per andare in vantaggio superando il Little Manga e ci riesce all'esterno quel corto cortese superato da Thierry Duvain per procedere da Wackett, dopo 200 metri corto cortese in vantaggio accompagnato da Thierry Duvain in costa Distant Horizon con di fuori Capitain tetto, in corda Gold in regola con di fuori Ladochette e la giubba rosa di Little Manga in corda in coda a Thierry Duvain, accompagnato da Queen Khalifa Capitain tetto muove in terza corcia e Little Manga in quarta in curva corto cortese in leggero vantaggio accompagnato da Thierry Duvain, in terza Capitain tetto poi Distant Horizon, Gold in regola, nel fondo Little Manga, Ladochette, Sir Tali e Queen Khalifa Capitain tetto attacca a traguardo lontano e prova a passare in terza corcia attaccando in maniera convinta Thierry Duvain che prova a regire sui due provano a intervenire Distant Horizon e Little Manga Capitain tetto che sta passando in vantaggio in corso da Little Manga, un po' disordinato, Gold in regola, Queen Khalifa Capitain tetto arroccato in corda, Little Manga è legno al giusto poi Gold in regola che prova a intervenire, Capitain tetto il vantaggio ma sta calando c'è lo scatto di Gold in regola e di Little Manga con Gold in regola che passa su Capitain tetto e Little Manga vicini